Il teatro Maruccino alza il sipario sul suo nuovo look, alvia la nuova stagione dopo un accurato restyling che consente al teatro più antico d'Abruzzo di offrire nuovi percorsi, migliore accessibilità e fruibilità all'insegna dell'innovazione. Il tutto è stato ottenuto rimodulando le sedute dei palchi e della platea, queste ultime smontabili al fine di recuperare spazi per le carrozzine, abbattendo così le barriere architettoniche di un tempo. Con una cerimonia di riapertura il luogo simbolo per eccellenza della cultura a Chieti è stato restituito simbolicamente ieri ai cittadini dopo un anno di pausa. È stato un lavoro corale, è stato un lavoro di sinergie. Il Ministero della Cultura ha finanziato tutti questi lavori che sono stati fatti e quindi questo completo rinnovamento. Presenze contingentate e capienza ridotta alla presenza di autorità civili e militari, l'inaugurazione ha accontentato gli appassionati della lirica, con l'esecuzione di alcune aree della traviata di Giuseppe Verdi, che inaugurerà questa sera il cartellone 2021-2022 della lirica del Marruccino. Si apre con la traviata con una grandissima direzione, quella del maestro Oren, proseguirà con Elisir d'Amore, ci sarà poi un'opera tango dedicata a Piazzolla nel centenario della sua nascita, che è Maria de Buenos Aires, che tra l'altro, nessuno lo dice mai, si occupa di temi importanti, soprattutto della condizione femminile. Proseguirà con una grande stagione di prosa che è in preparazione, con la reiterazione del premio Marruccino nel dialettale, con il teatro ragazzi e con una stagione concertistica che è in corso di elaborazione. Un accordo pluriennale per il teatro Marruccino con il Ministero della Cultura che prevede cosa? Sì, abbiamo raggiunto questo importantissimo accordo con la direzione dei musei, che prevede la rivalorizzazione del parco archeologico della Civitella dopo un periodo di stop. Ci apprestiamo a gestirlo appunto come deputazione teatrale per tornare, ripeto, a fruire di questi spazi come la piazzetta di Resta e quindi lo stellario per fare intrattenimento, e l'anfiteatro, l'arena per tenere degli eventi molto grandi per la sua capienza e molto prestigiosi come delle opere liriche all'aperto o come dei concerti di musica internazionale.